Mi affascina sempre molto pensare che Martin Shelfi, Nobel, per la chimica nel 2008, stava dormendo quando l'hanno chiamato per dirgli, oh bravo eh, ho vinto il Nobel. Un altro stava al pub, un altro l'hanno fermato per strada, oh Nobel, bravo. E voi che cosa stavate facendo cinque minuti prima che la vostra vita cambiasse per sempre? No, perché io stavo vendendo ciabatte, ciabatte e scarpe per andare a funghi. Nel 1994 un quotidiano britannico pubblica un annuncio che fa più o meno così. Sei spregiudicata? Sei esuberante? Ti piace ballare e cantare? Rispondi a questo annuncio, stiamo aspettando te per formare la prossima pop girl band. Ed è così, cari signori, che si formarono le Spice Girls. Quella roba lì. Ecco, io di quella roba lì non ero niente, non ero sicuramente spregiudicata, non ero sicuramente esuberante, anzi avevo appena vinto l'appellativo di Milagros. Milagros era una telenovela argentina che andava molto di moda in quel periodo. Questo per la mia grande passione di vestirmi come una damina dell'ottocento. Ecco, voi capite quanto io possa essere poco esuberante e poco spregiudicata, ma mia zia a Natale mi aveva regalato un registratore portatile, un mangia cassette rettangolare, grigio, con la maniglia che fa clic, nera, e io giravo per casa, col mio vestitino, col registratore sotto il braccio. Ed ero la bimba più felice del mondo. Ma anche alle Spice Girls andava parecchio bene, perché infatti nel 96 le Spice Girls pubblicano Wannabe, il loro singolo di maggior successo, e diventano un fenomeno planetario. E anch'io decisamente me la cavavo parecchio bene, perché grazie al registratore di mia zia avevo creato una trasmissione radiofonica completamente inventata direttamente dalla mia casa. Della mia cameretta trasmettevo questo, funzionava così. C'era musica, quella che piaceva a me, c'erano le storie, c'era lo spazio richieste, le mie, e c'era l'oroscopo, solo i segni che mi piacevano, il mio. Le Spice Girls fornano tre album, un film, qualche disco di platino, e anch'io raggiungo l'Olimpo grazie alla mia trasmissione radiofonica inventata nella mia cameretta, perché grazie a quella trasmissione io imparo tutte le canzoni che passano per radio, tutte. Soprattutto quelle di una radio in particolare, per la quale io avevo nutrito un'ossessione quasi maniacale. Trasmetteva 70 chilometri da casa mia, in FM ovviamente, e io avevo un solo obiettivo nella vita, io dovevo arrivare a trasmettere in quella radio. Non so come, non so quando, ma io ci dovevo arrivare. Purtroppo sappiamo che la storia non va sempre come si vorrebbe. Infatti anche le Spice Girls non è andata benissimo. Jerry Halliwell, la rossa, ha deciso di lasciare la band e nel giro di un anno tutto quanto il gruppo si sfascia. E purtroppo si sfascia anche il mio registratore, perché mia mamma decide di aprire la porta del bagno al buio, entrare e camminarci sopra. Lo prendo come un segno del destino, infatti le Spice Girls cercano la loro strada, anch'io cerco la mia, in modo un po' confuso. Mi iscrivo all'università, sceneggiatura, perché mi sembrava la cosa più attinente, e trovo un fantastico lavoro nell'ambito delle calzature. Notate l'attinenza. Ho trovato quello. Ecco, un negozio di calzature che mi aveva assunto, io ero la detta alle ciabatte. Ciabatte per le donne, scarpe per andare a funghi, per i mariti di quelli che si compravano le ciabatte. Era un po' lontano dal sogno della radio. Però mi ricordo un giorno che la proprietaria se n'è andata. Mi sono girata verso il termosifone, dove c'era la radiolina portatile, e ho cambiato stazione. E in quel momento, sulla mia radio preferita, passa una spot che promuoveva un corso per imparare a usare al mixer. mixer importante per la radio. Mi iscrivo al corso. Vado al corso e scopro che a tenere il corso sono proprio gli speaker della radio. E scopro che cercavano una voce femminile. E scopro che ne avrebbero provinate tre. Oh, eravamo quattro donne e quindici uomini. Io avevo studiato 22 anni. Non lo potevo sbagliare, no? Fanno il primo nome. Fanno il secondo nome. Fanno il terzo nome. E io non avevo passato il provino. Non chiedetemi perché, non l'ho ancora capito. 22 anni. Ho sbagliato il provino. Torniamo alle ciabatte. Quello che però non sapevo era quello che stava succedendo alle mie spalle. La prima era andata a fare il provino, l'aveva passato, ma non le interessava. La seconda è andata a fare il provino, l'ha passato, mi è andata a lavorare nella radio accanto. La terza ha fatto il provino, l'ha passato, ha iniziato a trasmettere e la sua famiglia si è trasferita dopo un mese in Inghilterra per sempre. Io ovviamente queste cose non le sapevo. Cioè la mia vita era finita. Mettetevi nei miei panni. Io stavo lì. Signora 38? 37? Lei? Goretex? Ecco, la mia vita era quella lì. E avevo un altro obiettivo. Eravamo a luglio del 2006 che era tenere sveglia mia nonna, perché quella sera c'era la finale dei mondiali di calcio. Mia nonna era abbastanza anziana, secondo me sarebbe stato il suo ultimo mondiale e mi sa che avevamo delle possibilità di vincere. Taglia Francia, ce lo ricordiamo tutti, nonna stai sveglia. Insulti di Materazzi, testata di Zidane, gola ai rigori. E io quindi stavo su un trattore in mezzo a Campania con una bottiglia di Lambrusco, mi chiama la radio e mi fa, oh domani ti devi presentare a fare il provino. Ma io ci vado, cioè cosa avevo da perdere? E io sono andata. E io il provino non l'ho neanche fatto. Io ho cominciato a trasmettere subito. Ero pronta, erano 22 anni che mi preparavo. Ecco, quell'anno le Spice Girls si sono riformate e io ho iniziato la mia carriera radiofonica col programma che mi preparavo da 22 anni. Musica, spazio e richieste e storie. La mia vita andava da Dio. Avevo il mio trasmissione in radio tutti i giorni, tre ore, cinque giorni a settimana. Avevo un appartamento, avevo trovato un fidanzato e poi si sa, no? Come è fatto l'animo umano. Quando raggiungiamo un sogno siamo nati per crearne uno ancora più grande, perché fortunatamente ai sogni i tetti non li hanno ancora messi. E quindi insieme al mio ragazzo abbiamo deciso di fare qualcosa di nostro, di aprire uno studio di registrazione. Quindi io decido di dare dimissione dalla radio dopo sette anni e aprire uno studio di registrazione. Le cose vanno bene, agli inizi come tutti, un po' bene, un po' male, le cose iniziano a ingranare e il mio ragazzo mi chiede di sposarlo. Io mi sentivo come quando alle Spice Girls è stato chiesto di aprire le Olimpiadi. Ecco, stavo lì, nel punto più alto della mia vita. Purtroppo sappiamo che non sono bastate le Olimpiadi a tenere insieme le Spice Girls, come non è bastato il corso prematrimoniale a tenere insieme noi due. Infatti, alla fine del corso prematrimoniale abbiamo deciso che basta. Le Spice Girls si lasciano e anch'io mi lascio. Lui trova un'altra ragazza e io per l'ennesima volta rivedo tutta la mia vita consegnata in mano a qualcun altro. A quel punto ho detto basta, perché se io ho fatto un percorso focalizzando la meta, facendo di tutto per arrivare lì e ancora una volta non ce l'ho fatta, ho detto adesso basta. Questa cosa non ha senso, adesso io voglio perdermi. E l'unico modo per perdermi, per me, era salire sui treni. Io non lo so quanti treni ho preso per un anno e mezzo. Io so solo che l'unico mio obiettivo era perdermi. Io salivo su un treno, dormivo su una panchina, io non conto le sale d'attesa in cui ho dormito, il puzzo delle sale d'attesa, le panchine fredde, le stazioni dei treni in cui mi mettevo le calze sulle mani perché congelavo un asciugamano attorno ai piedi perché mi avevo di freddo. Io volevo perdermi. Il problema è che tutte le volte che provavo a perdermi e ad attraversare quelle rotaie era il mondo che veniva ad attraversare me, perché nella solitudine di quelle panchine il mondo si sedeva accanto a me e mi raccontava la loro vita, le loro storie. Migranti, padanti, businessmen, businesswoman, bambini, guardie giurate, chiunque, si sedevano di fianco a me e mi raccontavano, a me, che avevo l'unica storia che non potevo raccontare a nessuno perché non aveva senso. E io li ascoltavo. E una sera ho chiuso il cerchio, nella stessa camera dove tutto era iniziato, mi sono trovata forse nel punto più basso della mia vita, davanti a LinkedIn, che è una cosa mostruosa, di una linearità pazzesca dove nella mia vita di lineare non c'era più niente. Come fai a scrivere su LinkedIn che tu nel tuo curriculum hai? Ciabatte, radio, treni, studio di distrazione. Io ho un master in ciabatte. E allora ho detto, forse io non sono quella cosa lì. Ho chiuso LinkedIn, io ho fatto l'unica cosa che sapevo fare. Ho preso il microfono, l'ho attaccato e ho iniziato a registrare. Ho raccontato la mia storia, ho raccontato quella delle persone che si sono avvicinate a me e che mi hanno raccontato la loro e l'ho pubblicata in rete. E io la mattina dopo avevo creato il mio primo podcast e l'avevo creato in ciabatte, mettendoci dentro la sceneggiatura, lo studio di registrazione, la radio, la musica, le storie e il mio percorso finalmente si era unito. Esattamente laddove era iniziato. Ma soprattutto io avevo capito forse l'insegnamento più grande della mia vita, che per tutto il tempo che io sono stata focalizzata alla meta, mi sono dimenticata di innamorarmi del percorso. Io avrei dovuto innamorarmi del percorso per poco lineare che era, per zigogolato e sconvolto che era, perché è stato proprio quel percorso a portarmi lì, perché di percorsi lineari sono solamente quelli delle piste e delle macchinine e poi anche le macchinine sbandano ogni tanto e devi raccogliere, devi rimetterle a posto, devi farle partire. Non dovremmo stupirci di vivere la nostra vita come un racconto, perché se ci hanno sempre abituate alle grandi biografie, ai grandi nomi, abituiamoci alla normalità, abituiamoci alla vita vera, alla vita delle persone che hanno dei sogni e che li portano avanti con le difficoltà che la vita mette in mezzo, perché quelle difficoltà mi hanno portato ad essere quello che sono oggi, quel podcast, quel giorno, quella sera, mi ha cambiato la vita. Io adesso sono parte di un movimento che conta 155 milioni di ascoltatori nel mondo ad oggi, di cui quasi 14 solo in Italia, 448 milioni di episodi pubblicati online e quanta vita c'è in quella roba. È una marea, 48 milioni di storie che le persone buttano in rete per farci sentire uniti, per farci sentire e capire che quel percorso che abbiamo tanto odiato perché non ci ha portato dove volevamo ci ha portato invece nel posto giusto e nel momento giusto. E quel posto giusto e nel momento giusto per me adesso è nel mio studio, a raccontare nei podcast le storie delle persone, delle aziende, di chiunque mi affidi la propria vita, la propria narrazione, ma non lo faccio solo in studio per onorare il mio percorso, lo faccio spesso e volentieri anche a casa, ma sempre con una grande umiltà e sempre in ciabatte. Grazie.